Una vittoria annunciata, quella di Matteo Bracciali alle primarie di coalizione del centro-sinistra Retino. Il più giovane dei tre candidati, l'appena trentenne capogruppo PD in consiglio comunale e coordinatore nazionale dei giovani ACLI, non arriva alla maggioranza assoluta, ma si porta a casa il 48,3% delle preferenze, pari a 2.564 voti e la candidatura ufficiale alla poltrona di primo cittadino di Arezzo. Sfiora il 31% al secondo posto di Luciano Ralli, il presidente del consiglio comunale ottiene un ottimo risultato, il 30,97%, pari a 1.644 preferenze, probabilmente migliore delle aspettative iniziali. Chiude l'attuale prosindaco Stefano Gasperini, che forse si aspettava più del 20,74% ottenuto, ovvero 1.101 voti. Inizia un nuovo percorso, ha commentato a caldo il vincitore di questa tornata elettorale. Immediati i suoi ringraziamenti ai due avversari per la correttezza dimostrata durante la corsa alle urne. Ora, ha dichiarato Bracciali, dovremmo lavorare uniti per vincere le elezioni. A lui sono andate le congratulazioni di Ralli, che ha presenziato i festeggiamenti nel quartier generale del PD in piazza Sant'Agostino. Sul proprio profilo Facebook Gasperini ha commentato «È stata una bella sfida, non è andata bene, ma mi ha sostenuto un magnifico gruppo che ringrazio di cuore. Grazie a tutti coloro che mi hanno votato, congratulazioni a Matteo e auguri a tutti noi». A Gasperini spetta adesso il compito, forse in grato, di portare avanti l'ordinaria amministrazione in vista dell'appuntamento elettorale del maggio 2015. Sono stati oltre 5.000 i cittadini che domenica si sono recati ai seggi per esprimere la propria preferenza, 5.358 per l'esattezza. Di questi, 5.309 erano voti validi, 25 schede nulle e 24 schede bianche. Siamo ben lontani dagli oltre 8.300 elettori aretini che nel dicembre 2013 votarono per le primarie fra Renzi e Berzani, ma i due appuntamenti elettorali non sono paragonabili né per il momento storico né per la portata politica del voto. Il capogruppo PD si è giudicato 13 sezioni su 16, ottenendo il miglior risultato nella sua pescaiola, dove gli sono stati tributati ben 419 voti, il 68% del totale. Ottimi risultati percentuali anche ad indicatore, il matto e rigutino. Delle altre tre sezioni, Ralli stravince a casa propria, cioè al Giotto, con oltre il 51% delle preferenze. Nelle altre due circoscrizioni, Chiasa e Puglia, è Gasperini il candidato preferito, rispettivamente con oltre il 48,3 e il 38,4%.